Ciao, ciao a tutti, benvenuti su Goldi Unicorn Art. Allora, carissimi e carissimi, oggi voglio fare una stesa un po' approfondita sull'amore, l'amore che cerchi, l'amore che ti cerca, l'amore che stai vivendo. Vediamo un po' di incominciare con queste carte, vediamo come premessa che cosa ti vogliono dire. Allora, vediamo un po', poi tutto verrà, faremo le domande strada facendo. Allora, vediamo qual è, ecco, questa naturalmente è una delle carte dell'Oponopono che dice mi dispiace. Allora, mi dispiace ha tanti significati naturalmente, una persona pensa subito mi dispiace quello che è successo, mi dispiace per me, il mi dispiace comunque è, diciamo, come un'invocazione al divino, perché significa, sono consapevole che c'è questa memoria, qualcosa che mi ha fatto dispiacere, però io mi ricordo sempre che sono la luce. Quindi dicendo mi dispiace è come chiedere le scuse al proprio bambino interiore che è stato sovraccaricato da tante emozioni, no? E quindi ti amo. Quindi qui, anche se non avessi voluto scegliere l'amore, l'amore si intende sempre, io vado sempre poi a finire sull'amore di coppia, ma ricordiamoci che l'amore nasce prima dentro di noi, no? Quindi qui vediamo che è proprio uscita la parola ti amo, che sono proprio uno, questi due sono proprio il mantra, appartengono al mantra dell'oponopono, no? Mi dispiace, ti amo, grazie, perdonami, no? Quindi adesso il ti amo è proprio come dire ti amo alle sofferenze, ti amo alla mia memoria, ti amo al mio bambino, al mio bambino interiore e in questo modo è come fare una pulizia. Quindi qui è come se, mi viene già da dirti, dentro di te c'è un seme, il seme probabilmente del destino che si vuole realizzare. E già con queste due parole che vengono, perché qui appunto a combinazione ce ne sono proprio tante parole qui da poter dire, sono venute queste, ci lasciamo concentrare, le lasciamo come energia su questa, no? Perché comunque è una trasmutazione, no? Perché la frase ti amo può essere ripetuta anche indipendentemente da qualsiasi cosa. Dire ti amo è come dire sciolgo i blocchi in essere, no? Mi amo insieme all'esistenza. Ti amo è rivolto anche a se stessi quindi o alla persona che ami. Se noi guardiamo questo come mi dispiace e ti amo, è come se chi non ha ancora trovato l'amore del proprio destino, mi viene da dire, perché il destino è come un seme dentro di noi, dicendo tutto il mantra, va bene, dello ponopono, ma qui stiamo facendo proprio una sessione, diciamo un interattivo, un video proprio specifico, diciamo proprio sull'amore. Quindi dicendo già queste due parole, perché il mantra va detto tutto, ma non è detto che vada detto tutto, qui è come se il dispiacere fosse anche dovuto a non trovare questo amore o a non rivedere questo amore. Quindi adesso io qui aggiungo dei tarocchi. Vediamo un po', eh? Allora questa è la premessa, no? Quindi probabilmente ecco qui che volano, qui le carte. Quindi qui abbiamo le cose che possono essere possibili. Quindi una persona grande che entra da una porta, che vuole entrare in una porta molto piccola, per esempio, no? Come qui rappresentato. Quindi come dire che alle volte noi vogliamo proprio qualcosa di specifico e ci dobbiamo fare piccoli per entrare da quella porta lì che ci interessa. Seguiamo. Allora, qui già appunto c'è il mi dispiace all'inizio, qui c'è proprio come un blocco. Vedete che c'è una persona che non riesce a comunicare col mondo esterno, chi è dietro. Quindi molte persone di voi potrebbero non riuscire a comunicare con qualcuno, quindi con una persona che aspettano magari nella sua vita, magari un ritorno, oppure non riescono, diciamo, a manifestare l'amore che vogliono. Si sentono un po' isolati, magari sono isolati dentro di sé in questo, per questa circostanza specifica di cui sto parlando, no? Magari dicono l'amore da me non arriva, non ci credo più. E cose che peraltro leggo anche spesso nei vostri commenti, però mi viene da dirvi questo. Ricordatevi che il sebe è dentro di te, quindi il tuo destino, il destino della tua anima ti cerca sempre, eh? Quindi vediamo un po' cosa succede. Questa è un po' la vostra situazione iniziale, che però verrà sbloccata, perché queste due carte parlano comunque di trasmutazione, di sblocco. Vedete che qui comunque arriva un re di bastoni, quindi io parlo sempre al femminile, per semplicità, quindi qui la persona, il blocco, chi c'è nei confronti dell'amore, può venire per esempio sbloccato, perché comunque se tu ti rivolgi al tuo spazio interiore, tutti noi abbiamo uno spazio interiore che spesso non ascoltiamo. Per ascoltare lo spazio interiore, che è molto più grande di quello che noi pensiamo, noi dobbiamo far silenzio alla mente. Quando noi facciamo silenzio nella mente, questo spazio interiore emerge e noi ci espandiamo. Quindi mi viene da dire che per manifestare questo amore, che comunque in un certo senso è già nel tuo destino, ognuno ha il suo tipo di amore, nel suo tipo di destino, bisogna ascoltarsi nelle proprie profondità. Comunque qui, se vogliamo vederla proprio a livello di qualcosa a cui tu stai andando incontro, perché in fondo i tarocchi vedono la direzione che tu stai prendendo, quindi la direzione che stai prendendo è andare verso l'amore, riconoscendo che in questo momento c'è qualcosa che va trasmutato, cioè come noi alziamo le nostre vibrazioni, la manifestazione appare, soprattutto ascoltare lo spazio interiore, perché il tuo amore, secondo me, l'amore che tu vuoi, a cui tu aspiri, è già il seme di questo amore dentro di te, quindi questo amore, se tu ascolti il tuo spazio, non potrà non essere manifestato, perché è già appunto nel tuo destino, ognuno ha il suo destino, e qui vediamo proprio una porta che si apre, quindi mi viene da dire che a un certo punto qui si apre proprio una porta per l'amore, per una persona che diventa specifica, naturalmente questo mi dispiace, ti amo, è anche un dispiacere, dispiacersi, mi dispiace, ti amo a se stessi, che aiuta la trasmutazione, mi dispiace se fino adesso non mi sono concesso di vivere questo amore, però io ti vedo felice, contenta, tu hai le chiavi, vedi come sono collegate, qui c'è una porta che si apre, tu hai le chiavi di questa porta, quindi tu hai le chiavi del tuo destino, il tuo destino che è scritto dentro di te, come seme, naturalmente poi noi possiamo cambiare il nostro destino, le carte servono anche a questo, ti fanno vedere magari che stai andando in una direzione che non è proprio la tua, e tu allora con la tua consapevolezza puoi portare un cambiamento naturalmente, ma questo seme che è questo amore, qui sta dicendo non vede l'ora di manifestarsi, qui mi viene proprio da dire che tu hai le chiavi del tuo cuore e quindi nel momento in cui tu apri questo spazio di cui parlavo prima, questo spazio che è al di là della mente, non può non manifestarsi questa persona, mi viene da dire che questa persona, mettiamoci un po' delle carte sopra, proprio a questa persona, tu hai le chiavi di questa porta, di questo portale, e anche qui te lo fa vedere meglio, qui ti dice guarda che può essere che molte persone che stanno guardando in questo momento non si sentono fluide, diciamo, visto che la persona è dietro la porta, però guarda che questo amore arriva, vediamo, vediamo di metterci, tu sogni, questo è proprio il sognare, il sognare alle volte è illusorio, nel senso che alle volte tu sogni, ma non ascolti la parte più profonda di te, oppure l'ascolti nei sogni, quindi alle volte ti sei creato o creata delle illusioni per quanto riguarda o una persona specifica, o una persona diciamo che stai aspettando, però guarda che se tu ascolti dentro di te, questa persona non sarebbe venuta così, in questa posizione, c'è già, quindi mi viene da dire che le cose potrebbero anche andare bene, dipende se questi sogni sono consapevoli o no, alle volte la fantasticheria ti porta su altre strade da partire nella mente, invece quando tu sogni con l'immaginazione, perché ti senti bene col tuo cuore, quindi sei nel tuo spazio interiore, allora le cose funzionano, vedi che qui in ogni modo tu, secondo me il tuo destino lo trovi, perché qui attraversi addirittura le porte, quindi come dire, ci sono le porte più materiali, che tu devi aprire con la chiave, ma ci sono anche le porte invisibili, le porte immateriali, qui siamo proprio nella dimensione del sogno, perché vedi la persona che attraversa la porta, come dire, se è tuo ti troverà questo destino, questo amore, allora questa persona in questo momento, può essere che stia passando, questa persona che stai per incontrare, può essere che stia passando un momento di pigrizia, come vediamo qui, dalla persona che guarda la televisione, che mangia, è un po' impigrita, da proprio l'idea di una persona pigra in questo momento, però qui invece si vede proprio che questa persona ha dietro Stone Age, quindi voglio dire, è in un luogo magico, in uno spazio magico, mi viene da dire che se tu trovi il tuo spazio interiore, e ti connetti a questo filo interiore, con questa persona, questa persona la trovi, se tu invece, combinazione questa viene proprio sotto la carta delle illusioni, se tu invece agisci con la mente corrazionale, ma detto, ma fatto questo amore non arriva, io sono in sfiducia, tutto bloccato e così, allora è molto probabile che le cose rimarranno stagnanti ancora un po', comunque io vedo che proprio questa persona ti sta cercando, ti sta cercando in ogni modo, questa è naturalmente una metafora, di una persona che viaggia attraverso lettere, quindi internet, e internet rappresenta anche lettere, quindi una persona che ti sta a sua volta cercando, quindi diciamo che tu hai sempre davanti la scelta, se sentire, continuare a percepire questa sofferenza, per l'assenza di questa persona, oppure passi alla fiducia, e senti di avere le chiavi del tuo destino, che può altro avere le chiavi del tuo destino se non tu, quindi qui questa persona secondo me ti sta proprio cercando, vediamo di mettere qui delle carte, allora vediamo, mi chiamano queste, allora quindi questa persona ti sta cercando nell'etere, che potrebbe anche voler dire che siete connessi da un filo, sempre perché il tuo destino questa persona ti sta cercando, quindi secondo me le intenzioni sono di venire da te, anche se questa persona riflette un po' come uno specchio, te, il tuo momento difficile di questo momento, quindi in questo momento probabilmente ha avuto, ha appena finito di avere, perché queste sono venute prima, un momento appunto di blocco, ma vediamo poi che questa persona a un certo punto si alza e ti cerca, incomincia a cercarti, può essere appunto che ti cerchi davvero anche attraverso i social, vuole vedere che cosa tu stai facendo, oppure ti vuole conoscere attraverso magari i social, vediamo che cosa ci dicono qui, Allora questa carta accendiamo un po' la luce perché qui è tutto scritto piccolo, questa carta che appartiene tra l'altro all'occhio di tigre, che parla anche l'occhio di tigre, la pietra anche dei primi chakra, quindi parla anche di stabilità, è comunque l'occhio di tigre, e qui dice che la vita è come un film, il teatro, quindi saluta questo film perché si sta preparando una scena nuova, quindi ciò che non ti aspetti sta accadendo, qualcosa proprio che non ti aspetti, una nuova scena, naturalmente e metaforicamente, quindi sta accadendo qualcosa che in questo momento tu non ti aspetti, tu incomincia nel qui e ora con questa carta ti dice, tu incomincia a vivere adesso nel qui e ora, a prendere coscienza che ci sono dei blocchi, dire a questi blocchi mi dispiace, ti amo, e poi vivere anche in mezzo alla natura ti aiuta moltissimo, lo dico spesso ma anche le carte che escono, qui dice addirittura di ascoltare le cecale, quindi come dire, è un periodo estivo questo, ora siccome i video sono un po' senza tempo, però qui parla di un periodo estivo, quindi potrebbe essere qualcosa che sta per accadere, visto che in questo momento che stiamo registrando siamo in estate, oppure potrebbe semplicemente rappresentare il suono incessante, diciamo, che ti porta nel presente, nel qui e ora, il suono incessante, diciamo delle cicale, che ti tengono sveglio, già ho detto che per esempio nei centri Osho ogni ora, per volere di Osho, cantava il gallo, uno diceva perché il gallo canta, il gallo canta per mantenerti sempre nel qui e ora, per ricordarti che l'unico momento vero è il presente, noi siamo sempre nel presente, il passato e il futuro sono nella nostra mente, noi qualsiasi cosa facciamo siamo sempre comunque nel qui e ora, quindi dicevo che questa persona secondo me vuole fare un cambiamento, perché qui abbiamo proprio il cambio del teatro, il cambio di scena, proprio perché secondo me questa persona nel qui e ora è diventata consapevole di qualcosa, quindi qui dice che è come se venisse verso di te un po' in punta di piedi, delicatamente, quindi probabile che stia studiando un piano, probabile che ti stia cercando, perché anche ti sente dentro, ti sente dentro la sua anima, quindi andiamo a vedere un po' che cosa ci dicono, come ti vedrà, vediamo, come ti vedrà questa persona, prendiamo queste carte, come ti vedrà questa persona, perché viene verso di te delicatamente, questo mi fa pensare che si sente attirato da te, che ti cerca, che vuole venire da te, ma delicatamente, perché probabilmente sente questo filo e si sente come magicamente, magneticamente attratto dal suo stesso destino, quindi sembra quasi insicura questa persona, perché forse non aveva mai sentito una chiamata così profonda, ecco, allora vediamo come ti vede, e ti vede trasformata, quindi che tu lo conosco o meno, questa persona vede la tua stessa trasformazione, quindi vediamo, ti vede diversa, perché? Perché i suoi occhi sono cambiati, è uscito dalla pigrizia questa persona, quindi Shakti poi rappresenta anche l'amore, e quindi vedi perché viene in punta di piedi, perché secondo me si trova in una dimensione talmente trasformata, come dicevo prima, la nuova scena, che non è abituato, probabilmente questa è una persona che prima si mostrava in un modo, adesso che è in questa nuova dimensione dell'essere, avrà anche una nuova dimensione di comportamento, quindi si sente quasi intimidito, perché è come secondo me che se le strutture del suo ego, delle sue maschere fossero cadute, quindi questa persona si ritrova nuova, e viene verso di te nuova, chiamata da questo filo che vi unisce, quindi vuole un amore romantico, lo voleva prima questo amore romantico, questa persona probabilmente lo voleva, ma in un modo disarmonico, o che non ti soddisfaceva, quindi qui questa persona viene verso di te, con l'amore romantico, e come ti vede questa persona? Ti vede romantica, quindi una persona delicata, una persona a sua volta timida, forse sarete tutte e due nuovi, avete lasciato cadere le memorie del vostro passato, ve le siete lasciate alle spalle, e quindi siete nuovi, siete di fronte a una vostra nuova vita, una vostra nuova potenzialità, ecco, quindi questa persona ti vede così, in questo modo, quindi a questo punto vediamo un po', cosa potresti fare tu nel frattempo, oltre a quello che ti hanno già detto, allora vediamo che cosa potresti fare tu nel frattempo, pensa a lungo termine, ecco, queste carte ti dicono di non vedere questo incontro come, ecco, adesso chissà se andrà tutto bene, ma pensa a lungo termine, cioè visualizza che le cose andranno bene, perché chi pensa a lungo termine non vive sulla base di una gratificazione immediata, quindi se all'inizio, ecco, questo è molto probabile che all'inizio, questa persona, visto la delicatezza con cui si presenta, non arriva da te in modo prorompente, ti dice ora ho capito tutto, secondo me questa persona si svela gradatamente, anche perché è nuova a se stessa, quindi non ti preoccupare, mi viene da dirti, perché le cose funzioneranno, quindi cerca di vedere oltre, mi viene da dire, vediamo queste ancora, cosa ti dicono di fare, e poi voglio vedere ancora qualcosa su questa persona, allora vediamo queste, ti dicono, nulla accade senza che tu l'abbia chiamato a te, va bene, io queste carte parlano anche un po' di legge d'attrazioni, o parlo un po' più di legge di fisica quantistica, sono simili ma un po' diverse, comunque insomma, secondo me questa carta significa anche che in fondo questa persona si verrà da te, ma tu l'hai chiamata in qualche modo, ecco, quindi vediamo un po', per voi due, andiamo un po' a vedere, per voi due prendiamo queste, queste carte, allora, prendiamo queste carte, volevo vedere qualcosa di più su questa persona, quindi per voi due, allora questa persona abbiamo detto che viene da te, voglio vedere più chiaramente le sue vere intenzioni, anche se, come dire, il vostro destino vi fa trovare o ritrovare, trovare per la prima volta o ritrovare, ma voglio vedere, voglio fare proprio vedere, e qui una carta che voi avete già visto, viene proprio con l'intenzione, questa è proprio l'intenzione interna, di avere proprio una relazione, una relazione di coppia con te, perché si sente chiamato qui, qui l'intenzione interna è la sua vera intenzione, l'intenzione esterna è l'intenzione del divino, diciamo, qui almeno la fisica quantistica parla di questo, l'intenzione interna sei tu, qualcosa che nasce da dentro di te, quindi questa persona si sente proprio intenzionata verso di te, e si sente nuova se stessa, quindi una persona che ha avuto una trasformazione come te del resto, e qui però è anche guidato, diciamo, questi potrebbero essere rappresentati, qui sono quattro re, ma potrebbero essere angeli, che ti danno la forza, che danno la forza al tuo bambino interiore di credere, o al suo bambino interiore di credere, perché stiamo guardando le sue intenzioni, quindi l'intenzione esterna mi viene da dire è spinto dal divino, quindi le sue intenzioni sono chiare e pulite adesso, siccome abbiamo nominato il divino, devo prendere le carte del divino, allora vediamo, allora questa è una carta che dice senza colpa, ecco perché viene così nuovo apparentemente incerto, perché ha rilasciato il passato, quindi se tu hai avuto da discutere, da dire, da criticare con questa persona, oppure se non conosci questa persona, e questa persona ha avuto nel suo passato, delle storie travagliate, insomma se avete avuto delle sofferenze con questa persona, questa carta dice che c'è un perdono per gli errori del passato, e qui andiamo nel mi dispiace, cioè mi dispiace quello che è successo, viene senza colpa, viene innocentemente, viene trasformato questa persona, questa carta parla anche dell'angelo A.A.S.I.A., che dice che è una medicina universale, che è anche la pietra filosofale, quindi c'è grande saggezza, anche se appunto questa persona è un po' nuova a se stessa in tutto questo, quindi io direi che fra di voi ci sarà proprio un bellissimo incontro, mi viene proprio da dire, questo amore verrà proprio da te, e ricordati sempre che il tuo destino ti cerca sempre, in ogni momento, quindi quando le cose non funzionano, ricordati dello spazio interiore di cui ti dicevo prima, quello spazio che è molto espanso, la mente invece si fissa e tende a ripetere gli stessi pensieri, non funziona, non va bene, oppure vorrei che fosse così, non fa questo, ecco, il matto ti parla di tantissime possibilità, vedi qui questo matto nelle carte di Osha, rappresentato come una persona che ha dei fiori in mano, che si butta da un burrone, ma significa questo come metafora, che questa persona è pronta talmente in fiducia, la fiducia è talmente grande di questa persona, che ha fiducia nella vita, nell'esistenza, in quello che accadrà, e avrà fiducia anche in te, mi viene da dire, a questo punto, perché ha represso prima nel suo passato, prima una persona che ha represso le sue emozioni, quindi adesso questa persona è andata all'interno, questo è il volgersi all'interno, ha trovato quello spazio di cui abbiamo visto prima, e si è espansa, perché è in quello spazio che si percepisce proprio, perché noi siamo fatti anche di quello spazio, noi siamo manifestazione dall'invisibile al visibile, ma la nostra anima è invisibile, ma si percepisce solo quando noi ci volgiamo all'interno, quindi mi viene da dire, che il vostro incontro prima avviene all'interno di voi due, con questo filo che vi unisce, e poi la vita ti può portare a diversi blocchi, come abbiamo visto, perché? Perché alla fine noi abbiamo sempre da imparare, e avremo sempre da imparare fino all'ultimo respiro, perché la vita ci insegna continuamente ad evolverci, quindi noi avremo sempre da imparare, quindi se questa persona fino adesso non è stata come tu ti aspettavi, o non è apparsa nella tua vita, è perché da qualche parte c'era qualcosa che non era in contatto con la coscienza interiore, col tuo sé superiore, la mente tende sempre a reprimere, soprattutto le cose gioiose, perché è sempre un po' timorosa, razionalizza tutto, quindi la mente non sempre capisce le cose invisibili, non sempre capisce le emozioni, non sempre capisce i sentimenti, ma questa persona come abbiamo visto viene da te in fiducia, fiducia anche nell'esistenza, perché ha trovato qualcosa dentro di sé, che tu anche hai trovato, perché tu comunque hai le chiavi, tu hai le chiavi sia a livello onirico, quindi di sogno, sia a livello di realtà, quindi è come se tu avessi trovato anche contemporaneamente le chiavi del tuo cuore, quindi a questo punto cosa ti suggeriscono queste carte? Di vivere momento per momento, sempre però tenendo l'immagine, questo è importante a lungo termine, che andrà tutto bene, quindi momento per momento significa di nuovo vivere il qui e ora, però fiduciosa che le cose andranno bene, questo è molto importante, quindi a questo punto aspettati la fioritura del fiordiloto, la fioritura del fiordiloto per questa coppia parla proprio, il fiordiloto nasce dal fango e poi diventa appunto, è la metafora anche del risvegliato, dell'illuminato, diventa un fiore bellissimo, però ha attraversato dure prove, quindi sentiti un po' e abbi pazienza, mi viene da dire, perché la fioritura avviene nel momento perfetto, quindi abbi pazienza verso di te anche, non perché la mente ha sempre fretta, mentre se tu ascolti il tuo spazio interiore non hai più fretta, perché sai che le cose accadono al momento giusto, quindi sappi che questa storia è destinata a una fioritura, se ascolti il tuo io interiore, quindi qui vediamo proprio la fioritura di voi due. Quindi a questo punto io concludo questa meravigliosa stesa con gli oracoli dello sciamano. Beh, potrà essere, mi viene da dire, la vostra storia così nuova che sembrerete all'inizio sconosciuti, il cuore si conoscerà perché è connesso, però approcciati in questa nuova modalità con curiosità, sempre bisogna approcciarsi un po' alla vita con curiosità, perché qui poi scoprirete che avrete tanto, tanto in comune il potere della comunanza, avrete tante affinità, ma come vi ho già detto, tutta la stesa lo scoprirete piano piano, piano piano, perché poi ci sarà l'amato, quindi un'accettazione totale di voi due, uno dell'altro. Quindi questa carta conclude, secondo me, questa meravigliosa stesa al cuore di fuoco che è l'accettazione totale e che è il vostro incontro, diciamo, destinato. Quindi carissimi e carissime, io vi ringrazio dell'ascolto, a risentirci a presto, un abbraccio, ciao!